Mi rimane sicuramente la professionalità dei colleghi del mio ufficio, l'UPGSP, e un grande affetto che mi hanno dimostrato tutti, dal signor questore al capo di gabinetto e in generale a tutti i colleghi della questura. 3582 interventi, 27 arresti in flagranza di reato, 472 denunciati. Sono i numeri dell'operato del commissario Valentina Benveniù, giunta al termine del suo incarico a capo della squadra volanti della questura di Belluno. Un'intensa attività condotta con estrema professionalità e competenza, ha commentato il questore Francesco Zerilli, portavoce dell'applauso unanime di colleghi e collaboratori che nell'ultimo biennio hanno affiancato Benveniù nella sua attività. Portano la sua firma alle iniziative avviate nelle scuole per l'educazione dei giovani a tematiche sensibili quali il rapporto tra sessualità e il mondo del web. E' il progetto che tuttora consente alle donne vittime di violenza di usufruire dell'ausilio di una consulenza gratuita con professionisti del settore. Benveniù nel lasciare le Dolomiti per un incarico a Torino pone l'accento sui contesti criminosi più sensibili nella provincia di Belluno. L'ambito della violenza di genere è domestica, quindi l'ambito del Codice Rosso, che comunque è un fenomeno emergente che vede numeri relativamente importanti, e poi l'ambito minorile. Al suo posto Sofia Pierini, classe 1996. Originaria di Macerata, è laureata con il massimo dei voti in giurisprudenza e ha seguito un master presso il Consolato Italiano a New York. Al suo primo incarico dirigenziale a Pierini toccherà la sfida rappresentata dalla gestione dell'Ufficio Prevenzione Generale durante l'appuntamento olimpico. E' il mio primo incarico e da quel che ho avuto modo di vedere in questi pochi giorni trovo che sia una realtà lavorativa stimolante, sicuramente. Relativamente a breve ci saranno le Olimpiadi, che saranno un evento su cui bisognerà lavorare molto, e quindi di conseguenza è un evento estremamente sfidante, quindi non vedo l'ora di mettermi alla prova.